Bentornati su Recensioni per Scegliere, oggi parliamo di Box Doccia fai da te Se siete alla ricerca di un Box Doccia il consiglio è quello di visitare il sito web docciabox.com Come potete vedere da queste immagini dal sito è possibile andare a selezionare il Box Doccia a un lato, a due lati, a tre lati o semicircolare in base alle vostre esigenze Una volta poi entrati all'interno della pagina sarà possibile andare a inserire il filtro per avere solamente i Box Doccia in cristallo, in PVC o in acrilico Una volta quindi che abbiamo selezionato la tipologia di Box Doccia di cui abbiamo bisogno possiamo effettuare la ricerca tra i vari modelli disponibili Dalla descrizione breve è possibile già visionare le misure che andranno a coprire i Box Doccia E poi entrando all'interno della scheda dei singoli prodotti potremo vedere delle immagini per vederne meglio il dettaglio Leggere le caratteristiche principali, visionare la scheda di montaggio e inoltre scegliere il modello più adatto in base alle dimensioni della nostra nicchia del Box Doccia Una volta effettuato l'ordine il Box Doccia vi arriverà a casa ben confezionato con le istruzioni per il montaggio fai da te Come primo passaggio andiamo a effettuare i fori nel muro del Box Doccia Quindi seguendo le istruzioni passo passo andiamo a montare la porta e la cornice del Box Doccia Inserendo le guaina in silicone e i profili in alluminio Avvitiamo i profili in modo tale da tenerli ben fermi e completiamo la struttura Quindi montiamo la maniglia in acciaio cromato Avvitiamo le staffe sul muro del Box Doccia e inseriamo la porta per fissarla Aggiungiamo una goccia di silicone dall'esterno per sigillare il Box Doccia Il montaggio del Box Doccia è terminato Non ci resta che far asciugare il silicone e poi potremo utilizzare la nostra doccia Come avete visto il montaggio è semplice e veloce Effettuando l'ordine online con la consegna a casa in pochi giorni avrete il vostro Box Doccia pronto da montare Vi lascio in descrizione il link al sito Bocciadox da cui ho acquistato il mio Box Doccia Se avete delle domande come al solito potete lasciare un commento qua sotto Cerco sempre di rispondere a tutti Fatemi sapere con un mi piace o non mi piace cosa ne pensate di video di questo tipo Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti cliccando sulla campanella per non perdere tutti i prossimi video che andremo a pubblicare Per questo video sul Box Doccia è tutto Noi ci vediamo alla prossima video recensione per scegliere Ciao da Enrico